Paolo Campino, 14 anni di passione educata, la tua squadra è unita con la casa italiana a livelli sempre più alti, quest'anno sei probabilmente al top di questa storia come possibilità. Sicuramente si parte con un po' di aspettativa che non sempre è positiva, magari può essere però oggettivamente siamo abbastanza contenti, è normale che ci diponga come ambizione di essere, di far meglio l'anno scorso. Meglio dell'anno scorso? Cioè l'anno scorso diciamo che hai fatto due secondi Danilo e due terzi, è meglio? Tre secondi e tre terzi o un primo? Primo, primo. Ah ecco, un primo. Va bene, va bene. Allora, contento così? Corso. E' un nuovo partner? Sì, è un'ottima collaborazione, Alma ha una bellissima agenda, e abbiamo fatto un contratto triennale, quindi siamo molto contenti di avere questo futuro insieme per tre anni. Poi in portoghese vuol dire... Alma, Alma, come spagnolo, Alma, mi alma, mi corazón. Ciao.